Il commissario della Sanità del Molise, Angelo Giustini, sarà domani a Roma dal Ministro Speranza alle 15 l'appuntamento con il capo di gabinetto, il toscano Goffredo Zaccardi. Sul tavolo il piano operativo straordinario della Sanità molisana, oggetto misterioso che pochi conoscono, ancora in bozza, un documento segretissimo già consegnato ai Ministeri di Salute ed Economia e all'Agenas, agenzia per i servizi sanitari regionali, incontro, confronto chiesto quasi un mese fa dall'onorevole Giuseppina Occhio Nero, allora con l'EU, ora con Italia Viva e per questo esclusa dal faccia a faccia, nonostante proprio lei avesse insistito affinché il caso Molise finisse all'attenzione del Ministro, una punizione che penalizza i molisani perché da molisana la deputata avrebbe potuto difendere la sua terra. Ma cosa c'è nel segretissimo POS? Una sorta di trattato internazionale in cui i molisani troveranno piacevolissime sorprese. Indiscrezioni parlano di un drastico ridimensionamento per tutti gli ospedali, fatta eccezione per il Cardarelli di Campobasso. Isernia, ad esempio, perderebbe senologia già di fatto smantellata ed oncologia. Termoli invece vedrebbe il suo punto nascita, per ora tenuto in vita dal Tar, accorpato a vasto, mentre il caracciolo di Agnone verrebbe declassato ad ospedale di comunità, una sorta di ambulatorio con pochi servizi. E a nulla sarebbe valsa l'indignazione dei cittadini che sotto forma di comitati spontanei hanno protestato e non si sono mai arresi ad uno smantellamento del settore che prosegue inarrestabile ormai da anni e che troverebbe piena attuazione nel POS 2019-2021 del commissario Angelo Giustini, esterno voluto fortemente dai 5 Stelle ed ispirazione leghista che ora rischia di essere un boomerang perché ha spinto affinché la sanità venisse gestita da un non molisano sotto dettatura romana. Grazie a tutti.